L'ultimo impegno di stagione regolare per la Betaland Capodorlando si avvicina. Domenica sera alle 20.45 al Palafantozzi arriverà la consulta in Vestpesaro, già fuori dalla lotta salvezza in virtù della vittoria ottenuta domenica all'Adriatic Arena sulle A7 Milano. Nonostante le sei sconfitte consecutive e il momentaneo scivolamento al nono posto, i ragazzi di Di Carlo scenderanno in campo con grandi motivazioni, perché battendo la VL potrebbero tornare in griglia play-off, a patto che una tra Pistoia e Brindisi perda nei rispettivi scontri contro Brescia e Venezia. Non ha percepito nessuna negatività al suo arrivo qui, anzi tutt'altro ha visto una squadra, un grande gruppo sia dentro che fuori dal campo e ha detto che sostanzialmente quello che ci permetterà di vincere le partite è appunto questo, cioè il fatto che loro quando finisce una partita purtroppo con una sconfitta in questi due casi in cui lui ha giocato si pensa subito alla prossima e si cerca di avere la giusta positività poi durante la settimana per affrontare al meglio gli allenamenti e per provare la successiva partita e questo è sicuramente un atteggiamento positivo secondo lui e ci permetterà di finire al meglio la stagione. Nel frattempo dopo aver chiuso la sua stagione e disputando anche la FIBA Europe Cup, Mario Hiring, playmaker classe 1998, giudicato come miglior giovane del campionato slovacco, ha fatto ritorno a Capodorlando ed è anche lui fiducioso per il finale di stagione. Questo anno ho preso tante esperienze da questa stagione che ho giocato il FIBA Euro Cup, poi anche la Lega Slovacchia era forte, poi il playoff, allora ho preso tante esperienze anche individuali, ho migliorato forse il tiro, la playmaker e queste cose. Grazie a tutti.